Ciao ragazze e ciao ragazzi, benvenuti o bentornati sul mio canale, oggi video spacchettamento Avon di Campagna 4, questo è il pacco che ho ricevuto oggi e vi faccio vedere cosa mi hanno ordinato i miei clienti, passiamo dal cartaceo, la fattura, poi mi hanno mandato il catalogo per te, mi hanno mandato il catalogo casa, il catalogo di Campagna 6, offerte esclusive hanno i presentatrici, il supplemento di Campagna 5 e 6, un altro supplemento di Campagna sempre 5 e 6 e un supplemento di Campagna 5, poi ho ordinato 3 cataloghi di Campagna 5 e 6 cataloghi di Campagna 7, perché c'era l'offerta quindi ho voluto approfittare e fatemi sapere qui sotto nei commenti se vi interessa che sfogliamo insieme i cataloghi dell'Avon. Allora, partiamo con i prodotti che ho ordinato io, ho voluto comprare lo spray per i piedi alla lavanda, questo l'ho usato tantissimo tempo fa e ho visto che era in offerta a 1,95€ e allora ho voluto comprare. Poi sempre per me della Planet Spa è un detergente rigenerante per il viso, sempre in offerta a 1,95€ e sempre per me ho voluto prendere il correttore liquido della Mark. invece le mie clienti hanno ordinato una matita, questa, di questa colorazione, color corallo, non vorrei fare una capolata, poi una mia clienti mi ha ordinato due rossetti e un correttore, il correttore è sempre quella dell'Avon True e poi mi ha ordinato due rossetti, perché c'era l'offerta se prendevi due rossetti le pagavi 10,90€ quindi ha voluto approfittare. Non le sboccio, questo qua è sicilato, questa è la colorazione, e questo qua invece dicono che sono le tinte ma non sono tinte, sono rossetti liquidi, e questo qua è l'altro colore. e poi mi è stato ordinato la crema della Vontrue Natural, questa è quella da catalogo a 6,95€, e è quella per le macchie insomma. E poi mi hanno omaggiato proprio di tre campioncini di numero, niente di che. Niente, il video è finito, mi raccomando iscrivetevi al canale e attivate la campanella. Un bacio e alla prossima, ciao!